Sei forte? Eh? Sei forte? Grazie. Anche tu non sei male. Sul serio? E guarda quanto mi ha fatto sudare. Io sono Roby. Pietro, e anche la tua mano è bella sudata. Sì, ma quello nervoso sei tu. Anche la tua ragazza è nervosa. Ci tiene tanto? Non è la mia ragazza. Ah no? Beh, meglio così. Non voglio litigare con un compagno di squadra per una tipa. Sei così sicuro di te? Sì, il giusto. Io e te siamo i più bravi. Scommetto che ci prendono entrambi. Ho detto che ne sceglieva solo uno. Fidati. E lei... Beh, lei verrà a fare il tifo per noi. Più per me che per te. Complimenti, ragazzi. Siete stati bravi. Ma ho fatto la mia scelta. Roby, sei dentro. Bravi, ragazzi. Ottima prova. Sei contento? Sì. Però se il provino è andato bene è perché Pietro è un ottimo sparring partner. Dovrebbe essere preso pure lui. Ottimo spirito di squadra. Bravo. E anche Pietro non se l'è cavata male. Va bene. Ti prendo in prova. Ti aspetto agli allenamenti. Non ci credo. Adesso sono anche in debito con uno di Marina Grande. Vi avviso, non sarà facile. La nostra è una squadra vera. E per giocare bisogna meritarselo. Non basta essere bravi. Pretendo serietà e disciplina. Intesi? Sì. Dai. Bravi. Grazie. Mi dispiace. Perché cosa? Mi hanno preso. Ti hanno preso? Sì. Ah, hanno preso tutti e due? Sì. Ma che grandi, sono contenta. Io comunque sono Roby. Isabelle. Ci vediamo a scuola? Certo. E noi anche agli allenamenti, no? Sì. Hai capito chi ha fatto colpo? Cioè? Eh, cioè. Ah, ma ti pare. Mi hai capito, sì? Ma no, ma che dici? Come no.